ciao ti ringrazio tanto per cliccare su questo video sono molto 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 contento grazie bene per il tuo aiuto ma prima di guardare il video mi fai un favore solo una ti prego vai sotto questo video vedi le cose rosso inscrizione subscribe mi puoi cliccare su questo poi dammi solo un like solo un like e lasciami il tuo commento cosa ne pensi su questo video lasciami il tuo commento per favore dammi un like e subscribe condividere anche questo video con gli amici con le persone grazie mille per aver fatto questo favore andiamo a guardare il video ciao a tutti benvenuti sul mio canale vi ringrazio tanto per essere qui con me prima di tutto voglio chiedere scusa voglio chiedere perdono tutto un po di problemi per questo non ha avuto venire a fare video per metter video su youtube per un po di un mese due mesi fa non ancora metto nessun video per questo voglio chiedere scusa e perdono i problemi è già finito e quindi da oggi e poi ogni domenica ogni domenica ci sarà un nuovo video ogni settimana un video nel futuro possiamo fare un po di più ma per adesso ogni settimana vi do ancora un nuovo video che potrebbe essere molto educativo molto interessante mio nome è sempre nyakob langson e benesa e sta guardando voce dell'africa voice of africa a voice in the wilderness cosa molto brutto che io non ho capito ho pensato tante volte ma non riesco a capire magari poter potresti aiutarmi capire cosa le situazioni perché non è successo a me solo una volta è successo a me tanti volte cinque sei sette volte e che non capito perché devi deve essere così magari qualcuno sa perché o qualcuno può aiutarmi capire e questo sono qui in italia per più o meno due anni così è una cosa che non ho capito è successo a me tante volte non so se è successo a te anche se appena ho finito questa questa cosa sia successo anche a te per favore lasciami questo commento condividere la tua esperienza sotto questo video così ho visto che quando africani come me vogliamo chiedere informazioni o vogliamo parlare con le persone soprattutto le persone bianche tanti volte non tutte le persone perché ci sono alcune persone bravissime molto molto riducate ma c'è alcune persone anche molto molto brutto in senso che appena dico buongiorno dicono no neanche loro vogliono ascoltare quello che le persone vogliono dire magari voglio chiedere un'informazione perché io sono straniero e magari non conosco una via c'è un'informazione da chiedere e quando tu vuoi chiedere un'informazione della persona e come se fosse non sei umano e come fosse quando tu pari con questa persona la persona può diventare come te non so se la persona diventa un africano non so non so cose come non so cosa 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 devo dire per spiegare questa situazione appena dico buongiorno dicono no direttamente così subito così no una volta sono volevo a prendere il treno e alla stazione non sapevo chi chi treno da da prendere o dove posso comprare il biglietto ho chiesto volevo chiedere una signora appena ho detto buongiorno le ha detto no 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 non pare con me non può parlare con me ma scusa non ho fatto niente non ti ho picchiato non ti ho neanche toccato ti sto salutando almeno ascoltami prima poi lei ha detto cosa cosa vuoi da me ho detto va bene grazie non voglio parlare di più no mi dispiace no non è così almeno ascolta la persona guarda alcuni hanno i pensieri che tutti gli africani che camminano sulla strada chiedono monetti no non è così è giusta o è sbagliata che fanno questo tipo di cosa quello che sto dicendo che dobbiamo capire occorre che la persona sta chiedendo prima di giudicare magari la persona si è giù è vero che magari la persona si sta chiedendo soldi o un aiuto va bene se ti chiedo un aiuto se hai un aiuto per me può aiutarmi se non hai e basta così non è che è per forza aiutare la persona quando più contro la persona nella strada chiede monetti io penso che questo qua non questo argomento non ha niente da dire di da fare con il rasismo io penso che è è una maledicazione le parti di persone che fanno questo e una volta ancora volevo chiedere un indirizzo di un ufficio c'era questo signore con con sua moglie e ho detto li ho salutato mi ha detto no 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 grazie ho detto grazie per cosa perché ti ho salutato voglio chiedere un'informazione ho detto sì mi scusa sai che sappiamo quello che fate voi africani qui spacciano le droghe fare violenza delle donne fanno le cose non hanno sentito ho detto ma cosa e vuol dire tutte le persone africane fanno spacciano le droghe tutte le persone rubano le cose sulla strada fanno casino quante persone bianche sono in prigione per fare le cose mari non sto dicendo che tutte le persone che sono in prigione fanno le cose mari giustamente qualcuno sono molto innocenti ma è successo nella vita così ma sto dicendo che almeno ascolta quello che sta chiedendo la persona prima di giudicare sennò è mai dedicato come magari un giorno potresti avere un bisogno di qualcosa e potresti anche chiedere una persona una persona africana una persona nero se nero non vuol dire sono stupido eh sono nero non vuol dire non so non penso non so cosa ne pensate ma questo cosa fa mare a me e credo che non è successo solo a me tante persone non solo africani anche altre persone guarda tutti noi siamo umani e dobbiamo vivere come umani anche i cani quando quando un animale vedo un altro animale fa un segno che ha visto un animale non è che noi umani quando vediamo un altro umani per colori da dove viene questa persona non possiamo fare niente con questa persona è sbagliato per me è sbagliato non so magari sto sbagliando sto esagerando troppo di questa cosa ma la realtà è questo per favore per favore siamo umani come te noi abbiamo bisogno di qualcosa dovete ricordare questo non siamo pieni di tutti almeno abbiamo bisogno di qualcosa le cose che tu c'è su televisioni le tante cose che parlano sui giornali il 90% di tutte queste cose sono false e sono propaganda sui africani sull'immigrazione non tutti di questo sono vero e quindi dovete verificare ci sono immigranti molto 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 bene molto giusto fare le cose giuste anche noi abbiamo Italia nel nostro cuore perché viviamo qui se ci sia qualcosa di mare in Italia ha conseguenza anche su di noi è brutta anche per noi e quindi noi anche noi cerchiamo ogni giorno di migliorare la vita la crescita di Italia e non potete farlo da solo possiamo collaborare fare l'amicizia come umani c'è un proverbio o c'è una frase in inglese che dice se siamo insieme possiamo chiuscire bene per favore non devi capire male quello che sto dicendo non sto dicendo per cose male ma sto dicendo per il benessere di noi tutti soprattutto i miei fratelli e i soldati africani grazie mille per ascoltarmi ci vediamo settimana prossima con un altro video penso che possiamo andare fuori a chiedere alle persone ancora le domande cosa hai in mente a mente di chiedere alla persona riguardo integrazione, immigrazione, cultura africana, tutte le cose lasciami tu la tua domanda sotto questo video così possiamo chiedere alla persona per te vi ringrazio tanto per tutti stai ascoltando e stai guardando Voice of Africa mio nome è sempre Gnaco Blancine Benisa grazie ci vediamo settimana prossima ma prima di andare prima di andare se non hai visto i primi quattro video che ho messo sul canale lascio il link sotto in video descrizione vai lì a cercare tutti i video c'è i primi quattro video che è molto molto interessante va lì a ascoltare guardare lasciami un commento qui together we can grow insieme possiamo crescere grazie mille ciao a tutti e Dio vi benedica ciao ciao